Ciao a tutti, sono Francesco, ho 24 anni e studio psicologia all'Università di Padova. Dunque faccio questo video in quanto mi è stato chiesto di descrivere cosa significa per me la parola eternità. Dunque, personalmente, quando penso alla parola eternità, penso sempre all'eternità della materia e alla continuità di questa, in quanto noi sappiamo che sul nostro pianeta vale la legge fisica del nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si modifica. Conseguentemente a questo sappiamo che la materia che compone il nostro corpo è sempre esistita e sempre esisterà anche dopo la nostra morte. Dunque, unendo un po' questo aspetto scientifico con un aspetto un po' più spirituale, quello che piace pensare a me, non sono assolutamente certo però di questo, è che successivamente alla nostra morte la materia che ci compone chiaramente continuerà ad esistere, ma manterrà anche la caratteristica dell'averci composto, ovvero è come se la materia che ci componesse mantenesse un pezzo della nostra individualità, del nostro spirito, e quindi questo chiaramente ci porterà ad essere perennemente presenti su questo pianeta, quindi per sempre, quindi da qui deriva anche il significato di eternità, attraverso la materia che ci ha composto e ci continuerà a comporre in quanto portatrice del nostro spirito, della nostra essenza.